... No, 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 no. perché la gente ha bisogno secondo me di comunicare, di comunicare con le proprie depressioni uscendo fuori e urlando abbastanza d'alta voce la loro gioia e la loro contentezza per la partita vinta queste cose qui quindi molte volte la partita si va a vedere perché la gente ha bisogno di urlare insieme e al concerto succede la stessa cosa, se uno va lì per comunicare, per urlare, per far casino insieme e lì allora può nascere qualcosa no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.